Buongiorno, senta io vorrei... Il nuovo iPhone 6S. Sì, ma... Vorresti anche 4 giga. Ma mi leggere il pensiero? Ma che pensiero? È quello che vogliono tutti. Poi però lo voglio sempre nuovo. Con Free puoi cambiare il tuo iPhone ogni 15 mesi. Magari anche con... Con minuti, SMS e 4 giga. Con Free, iPhone 6S con minuti, SMS e 4 giga a soli 30 euro al mese. E lo cambi senza costi. A cosa sto pensando? A niente. A niente.